Noi siamo un'azienda che abbiamo festeggiato il centenario ormai otto anni fa e contiamo circa 120 addetti e facciamo servizio praticamente su rete interna da Lanciano a San Vito e invece su rete di RFI da Termoli a San Benedetto del Tronto e con due diramazioni da Pescara verso Sulmona e da Giulianoa verso Teramo. La tua ha un parco di veicoli attualmente di sei macchine praticamente recenti, sono dei Minuetto Alstom con 144 posti a sedere e due automotrici termiche ALN776 della ex Fiat Ferroviaria che lavorano in supporto delle prime, sono macchine elettriche e diciamo il nostro parco siamo in fase di acquisizione di ulteriori due macchine con una capienza praticamente doppia rispetto a quelle del Minuetto e arriveremo circa a 300 posti macchina e sono l'evoluzione del Minuetto, quindi sono sempre i Coradia dell'Alstom. Dobbiamo riscontrare che effettivamente l'utenza è stata molto improntata a quel senso di responsabilità che abbiamo notato in diverse altre parti, non in tutte purtroppo, ma sostanzialmente possiamo dire che l'utenza ha retto. Le regole da rispettare sono quelle di non accalcarsi o cercare di sfruttare, per fortuna il nostro trasporto non prevede grossi flussi di pendolari per cui riusciamo agevolmente a stare entro le misure che sono state imposte. Le distanze minime di almeno un metro. Le distanze minime, secondo le regole non ci saremmo, ma poi di fatto in realtà ci sono. Poi c'è l'obbligo della mascherina. Poi c'è sempre l'obbligo della mascherina e possiamo annoverare qualche caso in tutto l'arco del Covid di persone senza mascherina. Poi c'è la sanificazione dei mezzi. Poi la sanificazione dei mezzi che avviene a ogni fine turno, è fatta da personale specializzato, ma è fatto anche ogni volta che la macchina rientra in officina da parte del nostro personale. Per cui sul discorso sanificazione non c'è stata nessuna falla, nessun buco, nessuna interruzione, ma il protocollo è stato osservato nel pieno rispetto di come è stato emanato. Sicuramente anche dal punto di vista della puntualità il ferro non incontra battute d'arresto, non deve fare autostrada con ingorghi, soprattutto la nostra rete autostradale, che oggi come oggi è famosissima per avere dei tempi di percorrenza molto incerti. La ferrovia dà certezza del trasferimento, salvo qualche raro caso che pure si è verificato, ma sono da trattare come eccezione. E poi il traffico che è andato via via aumentando, vuol dire che beneficia della sicurezza, della tranquillità che un trasporto ferroviario può dare rispetto a quello su gomma. E soprattutto non ha inconveniente di sorta, tranne che, ripeto, piccole e pochissime eccezioni, ma sono nella norma. La flotta la stiamo potenziando acquisendo due nuove macchine, con una potenzialità più che doppia di posti offerti, due macchine più lunghe di circa 84 metri, continueremo a fare le lavorazioni nel deposito, quindi anche al nostro interno, e le macchine saranno comunque, per ragioni logistiche, evoluzioni delle attuali. Come si chiamano? E' della serie Coradia, Coradia a quattro casse, sempre della Alstom, circa 300 posti a sedere, quindi rispetto ai 144 e agli attuali Minuetto, sono sicuramente una cosa. E questa cosa mi permetto di dire che va in linea con le aspettative della politica, che insomma intende riaprire da archi verso il mare. Ecco, parliamo di questo importante... Sì, c'è tutti noto la grossa aspettativa anche del nostro Presidente di Regione, che ultimamente a luglio, come c'è stata una presentazione della nostra controllata, ha fissato quelli che sono gli obiettivi per il trasporto locale, ha dettato praticamente il cronoprogramma degli interventi, e questo nostro intervento è proprio in perfetta sintonia con questo. Proviamo a spiegarlo meglio, dove si trova archi, perché è importante? Archi praticamente è il retroposto, se volete, il centro più importante alla zona industriale, nei prossimi della zona industriale di Val di Sangro, che è la zona che realizza il maggior pill della Regione Abruzzo, praticamente, quindi è un centro molto popoloso, è un centro che ha raccolto le necessità di tutto il settore dell'indotto della SEVEL stessa, e quindi oggi per acquisire un prodotto di mercato bisogna rivolgersi, un prodotto industriale ovviamente, bisogna rivolgersi in Val di Sangro. E quindi questo nuovo collegamento come funzionerebbe? Funzionerebbe a pettine, da Archi verso Fossa Cesia, e poi si dirà ma a nord e a sud, verso Termoli e verso Pescara, cioè verso altri due poli attrattivi, uno della Regione Molise, l'altro del nostro praticamente capoluogo. Altri investimenti invece per quanto riguarda Parcomacchine e quant'altro? Ci sono anche altri investimenti che riguardano, diciamo, proprio quella zona industriale, con programmi che sono stati già ampiamente discussi e che confermano la vocazione industriale di quella zona. Si ragionava anche di collegamenti con le aree interne, per esempio col Parco Nazionale d'Abruzzo, c'è una vecchia linea? Questa è una cosa che andrà, diciamo, proseguirà in parallelo anche con la nostra zona, quindi non la dimenticheremo, le aree interne. Però, insomma, come tempistica noi abbiamo l'obiettivo di puntare sul collegamento al mare di archi, appunto. Queste macchine sono arrivate da 15 a 10 anni fa, sono macchine modernissime, quindi in linea con le macchine, diciamo, di Trenitalia. Non ci sono macchine di serie A e di serie B, sono macchine in corrente alternata. Nessun carrozzone? Assolutamente no. Abbiamo dismesso ogni tipo di cosa, benché c'è qualche, diciamo, residuo di Parco, ma vecchio fino a un certo punto, perché dobbiamo ricordare che i mezzi ferroviari hanno una vita media di circa 40 anni, salvo poi i revamping. I revamping potrebbero arrivare anche a... A 60-70 anni. Ci sono, Trenitalia ne ha tanti di mezzi revampizzati che sono in linea con le ultime necessità, sia di sicurezza che di comfort. Al fine di adempiere, insomma, agli obblighi di legge, ogni impresa ferroviaria è obbligata ad effettuare la manutenzione sui propri mezzi ferroviari. Queste sono manutenzioni di tipo a tempo, di tipo programmate o di tipo correttivo. Attualmente in questa officina lavorano 13 persone, tutte altamente professionalizzate, nel senso che ogni operaio che prende servizio in questa deposita officina va immesso in un percorso formativo altamente professionalizzante. Questo percorso formativo prevede un corso teorico pratico e alla fine del corso teorico l'operatore viene valutato da una commissione esaminatrice il quale rilascerà l'abilitazione ad operare sui mezzi ferroviari. Perché tutto questo? Perché comunque l'Agenzia Nazionale vuole che ogni operatore sia in grado di operare in maniera autonoma e comunque che siano raggiunti quelli che sono gli standard minimi di sicurezza ai fini della circolabilità dei nostri veicoli ferroviari sulla rete nazionale. Le manutenzioni vengono effettuate o a chilometro quindi abbiamo diversi tipi di manutenzione a chilometro ogni 12.000 ogni 8.000 c'è una sorta di tagliando così come avviene per le autovetture avviene anche per un veicolo ferroviario. Cosa importante è che qui vengono effettuate quelle che sono le manutenzioni correttive quindi su guasto abbiamo il nostro personale di piedi è altamente specializzato ad intervenire e a risolvere qualsiasi tipo di problematica. Note importante che voglio sottolineare che attualmente questo presidio manutentivo è autonomo per quanto riguarda la manutenzione sia programmata che correttiva è completamente autonomo senza fornire di un supporto esterno quindi va dato atto ai nostri operatori di comunque essere abbassati sono molto esperti e professionalizzati sanno fare tutto non serve sanno fare tutto sanno fare tutto e nella cultura ferroviaria insomma che ci trasciniamo oramai da 100 anni è quella di comunque fare in qualsiasi cioè rendere il servizio il più omogeneo possibile quindi affrontare e risolvere ogni problematica legata al servizio di trasporto pubblico locale di TUA grazie a tutti grazie a tutti